Amici di Raiuno, buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sul traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. La viabilità è condizionata dalla nebbia questa mattina con visibilità ridotta, occasione questa per ricordarvi, qualora il quadro visivo sia inferiore ai 100 metri, di ridurre la velocità da 130 km orari a 50 km orari. E poi da traffico intenso in direzione dei centri urbani per i consueti spostamenti pendolari con l'inizio delle attività lavorative scolastiche. E al momento si registrano code sull'A4, monitoriamo proprio l'A4 tra Dalmine e Cavenago e peraltro ci sono code per un incidente tra Ponteoglio e Palazzolo in direzione Brescia. L'altro tratto che monitoriamo è la diramazione di Roma Sud e queste sono le code che partono dall'uscita della 1 alla Roma-Napoli che si dirigono verso il grande raccordo anulare. Al momento sono di 2 km, peraltro ci sono code anche sull'etratto capitolino dell'A24 tra Porto Narcio e Tangenziale Est. Inizio nelle comunicarvi che ancora chiuso l'autostrada 12, la Genova-Rosignano per lavori e al momento ci sono 4 km di code tra Rappallo e Recco in direzione Genova e la riapertura di questo tratto è stata posticipata alle ore 7, quindi tra 20 minuti. E poi desidero segnalarvi la chiusura per un incendio che sta interessando la strada statale 691 Fondo Valle Sene e al momento è chiuso per questo incendio tra Caposele e l'incrocio Teora e l'uscita obbligatoria è quella di Teola e Caposele. Ecco queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità, guidate con prudenza, fate buon viaggio, a voi tutti una bellissima giornata e come sempre la linea Varrai 1 e 1 Mattina. Arrivederci.